live numero 36 buonasera a tutti allora vi attendo attendo che vi connettiate datemi feedback cortesemente se mi vedete e sentite decentemente allora nuova settimana se non sbaglio live 36 quindi quindi iniziamo l'ottava settimana allora possiamo qualche settaggio ciao a tutti ragazzi fatemi sapere se si vede bene o abbassato un pelino la risoluzione della della camera per capire se va un po più fluido antonello dario franchi siete belli carichi per questa nuova sessione di chiunque già già un po allora allora intanto pasquale poi ragazzi vado un po scatti e abbiate pazienza l'importante che si senta l'audio ok mentre mentre vi connette te io partirei quindi vi chiedo come sempre di mettere un mi piace alla pagina ingegner marcello conto la pagina facebook e di iscrivervi al nuovo gruppo facebook ingegner marcello conto per bonus 110 per cento tutto quello che devi sapere e invece se ci segui su questo microfono centrato mi dà un fastidio invece se ci segui su youtube ti suggerisco di iscriverti al nostro canale ingegner marcello conto e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche quando pubblichiamo un nuovo video quando programmiamo le live eccetera eccetera questi sono i modi migliori per ovviamente restare aggiornati su tutte le novità super bonus 110 per cento per trovare il link alle nuove live e alle registrazioni delle live passate ma anche per farmi tutte le domande che volete su questo tema ok allora prima di partire due veloci indicazioni usiamo le live per le domande nel senso che alcuni mi hanno fatto notare che a volte non rispondiamo o rispondiamo dopo giorni alle varie mail messenger whatsapp ragazzi un po difficile stare appresso alle centinaia di messaggi che riceviamo tutti i giorni per cui abbiate pazienza e se per caso cioè se volete nel vostro interesse lo dico e se volete la certezza di una mia risposta naturalmente il migliore è far la domanda in live ok un'altra cosa importante che durante le live non posso naturalmente analizzare in modo approfondito il vostro caso specifico per cui una perché un'analisi approfondita naturalmente richiede il giusto tempo per poter essere analizzata la possibilità di farci di farci reciprocamente domande e magari analizzare i vostri documenti ok quindi se siete interessati a questo tipo di analisi lo strumento si chiama preanalisi e basta inviare un messaggio privato sulla pagina ingegner marcello conto e i ragazzi dello staff vi sapranno indicare come dobbiamo regolarci ok prima di iniziare ragazzi vi annuncio che rullo di tamburi sabato 14 novembre dalle 9 alle 14 faremo un nuovo webinar sul 110 per cento sul super bonus abbiamo pensato di fare questo webinar perché col precedente avendo cambiato piattaforma purtroppo in tanti hanno avuto problemi a connettersi mi dispiace ovviamente per scusarci abbiamo pensato di fare un altro webinar così magari chi ha avuto problemi tecnici se lo recupera in live eccetera eccetera seguitemi fino alla fine oggi perché vi spiegherò meglio di cosa parleremo ok allora di che cosa parleremo oggi se chi di voi era connesso venerdì alla live numero 35 sa che è stata una bella sessione di domande risposte molto partecipata penso di aver risposto correggetemi se sbaglio almeno una trentina di domande tuttavia dopo un'ora e cinque di live c'erano forse almeno un'altra trentina di domande cui rispondere e per questo abbiamo pensato a questa edizione straordinaria di chi è ne oggi in modo da rispondere le ultime domande di venerdì e poi sono qua per chi mi vorrà fare qualche domanda in diretta ok spero che sia un bel regalo se siete d'accordo partirei subito con le domande nel frattempo ragazzi iniziate a scrivermi già le vostre domande nei commenti che siate su youtube su facebook nel frattempo rispondo a qualcuna delle domande che rimaste indietro l'altro giorno e partiamo poi con le domande che mi fate in live allora pietro de lussu mi dice qualcuno sostiene che la tolleranza del 2 per cento vale solo ai fini urbanistici datevi un attimo allora 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 dicevo pietro mi dice non so se pietro è connesso anche oggi se ci sei batte un colpo pietro allora dicevo qualcuno sostiene che la tolleranza del 2 per cento vale solo a fini urbanistici ma la casa rimane inabitabile quindi non può usufruire del superbonus allora vediamo nel dettaglio di cosa si tratta questa tolleranza del 2 per cento di cui parla pietro è prevista nel testo unico dell'edilizia 300 il dpr 380 2001 non nella normativa superbonus 110 per cento ok vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta l'articolo 10 comma 1 lettera p della legge 120 del 2020 tradotto in pratica è la conversione in legge del decreto semplificazioni questa roba qua modificato il testo unico edilizia quindi il dpr 380 2001 ampliando il concetto di tolleranze costruttive cosa ha fatto il decreto semplificazioni semplicemente aggiunto l'articolo 34 bis che parla vi leggo il comma 1 che quello che ci interessa sostanzialmente dice che il mancano rispetto dell'altezza dei distacchi della cubatura della superficie coperta di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo ok quindi stiamo parlando ragazzi di testo unico dell'edilizia quindi ti dice esplicitamente non costituisce violazione edilizia per cui se la casa di pietro o le vostre case hanno una differenza del 2 per cento come dice la norma su altezza e distacchi volumetria qualunque parametro urbanistico significativo di fatto non è un abuso edilizio per cui non essendo un abuso edilizio non è limitante nei confronti del super bonus per cui ho una parete più lunga del 2 per cento rispetto all'autorizzato e non succede nulla né per né dal punto di vista edilizio diciamo urbanistico né dal punto di vista super bonus ok se eccediamo invece questi valori abbiamo un problema ok luca cipriani nel frattempo ragazzi continuate a scrivere le vostre domande io finisco di rispondere a queste poi mi recupero le domande luca cipriani dice in caso di più interventi trainanti qual è il massimale a cosa si ancorano gli interventi trainati se non sbaglio agenzia delle entrate e mise quindi ministro dello sviluppo economico dicono che i massimali si sommano allora si è corretto ogni intervento di fatto usa il suo cassettino specifico il suo massimale specifico per cui i massimali è corretto che si sommano vincenzo pirrigheddu mi dice buonasera la palazzina dove abito è composta da due famiglie diverse chiaramente ci sono parti comuni vanoscale comportone eccetera posso usufruire da solo del super bonus per il capote altri lavori trainanti grazie allora come sempre ragazzi vale il concetto del se sei in condominio ti muovi col condominio se hai un'unità o indipendente oppure posta all'interno di un edificio plurifamiliare quindi parlo della casa schiera parlo della mezza bifamiliare parlo di un'unità in condominio però con accesso autonomo e impianti indipendenti dal condominio in questi casi ti puoi muovere in autonomia ok in tutti gli altri casi devi attendere vincenzo che il condominio faccia gli interventi trainanti e che e quindi tu puoi ti ti associ con gli interventi trainati ok questo è fabio baglioni e giovannino schirra praticamente fanno la stessa domanda e mi dicono certificato di agibilità non ho chiaro se sia necessario oppure no non ho letto da nessuna parte l'obbligo del certificato di agibilità ragazzi per cui se non c'è scritto per me non c'è però c'è l'obbligo che non è agganciato alla agibilità ma di quello che parlavamo prima con la risposta a pietro cioè l'obbligo che l'edificio risulti regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio ok quindi non c'è l'obbligo di agibilità ma c'è l'obbligo che l'edificio sia conforme quindi sia costruito come autorizzato tranne questa piccola toleranza del 2 per cento ok non so se ho qualche altra applicazione aperta perché io mi vedo mi vedo andare a scatti mi date feedback su questa cosa pietro ci sei la risposta ti spero di averti risposta adeguatamente allora poi paolo onorato giudice mi dice salve sono nuovo iscritto chiedo se avendo in corso una ristrutturazione iniziata a fine 2019 posso accedere al super bonus avrei intenzione di impiantare un chiller con relativo impianto nuovo pavimento utilizzando i granchi di reazione vespaio e nuovi infissi alluminio taglio termico allora paolo il concetto è questo l'importante che i lavori che tu allora che tu in corso nella ristrutturazione fa abbastanza poco fede ok quello che è importante invece è che i lavori che ovviamente tu fai analizzare la tua situazione a team di esperti super bonus che questi riesca a organizzare a individuare degli interventi che possano migliorare il tuo la tua classe energetica del tuo fabbricato di almeno due classi ok a questo punto individui questi questi interventi trainanti che sono o quelli di coibentazione pareti copertura eccetera eccetera oppure di interventi sull'impianto termico quindi di riscaldamento quindi impianto di climatizzazione invernale come lo chiama la norma ok e a questo punto fai quegli interventi trainanti e fai gli eventuali interventi trainati con gli infissi a taglio termico che mi dici tu l'importante è che li fai nell'intervallo temporale tra l'inizio e la fine degli interventi trainanti questo è il vincolo cioè se tu nel frattempo hai rifatto un bagno per dire o hai pitturato le facciate non non è rilevante ok quindi questo era paolo onorato giudice paolo g invece ci dice buongiorno vivo in sicilia ma ho appreso ma ho purtroppo appreso da una live e ho messo la faccina triste che non siete operativi nella mia regione ho seguito con estremo interesse tutte e 35 le live complimenti e continuerò a farlo perché sto valutando di acquistare un terreno con una villetta che dovrei ristrutturare con l'agevolazione sisma bonus ed ecobonus 110 allora quello che ti posso dire paolo in questo momento è che la nostra rete partner cresce rapidamente per cui continuo a seguirci magari abbiamo qualche buona novità per te a brevissimo ok su sigiglio ciao marcello con la domanda per me più importante posso accedere al super bonus o agli altri incentivi vendendo il credito fiscale che matura con gli importi della ristrutturazione anche se non pago tasse sul reddito in quanto in occupata da anni quindi non credito da scaricare grazie susanna allora susanna lo strumento perfetto per te è la cessione del credito o lo sconto in fattura con la cessione del credito cosa fai c'è del tuo credito a una banca alle poste oppure a un altro intermediario finanziario è quello in cambio ti paga i lavori sostanzialmente un'alternativa è quella che si chiama sconto in fattura quindi di fatto in quel caso il credito lo cedi a chi ti fa i lavori in cambio di un pari sconto in fattura te lo traduco in numeri semplici ipotizza che trovi l'azienda a devi fare 100 mila euro di lavori l'azienda fa i lavori per te ti emette una fattura da 100 mila in cambio tu gli cedi i 110 mila euro di credito che hai maturato grazie al fatto questi lavori che al fatto che hai fatto questi lavori e loro non ti fanno pagare la fattura perché gli hai ceduto il credito quindi questo è il strumento giusto per te ok se poi hai necessità di chiarimenti ti suggerisco di recuperarti la live numero 31 dove abbiamo parlato nello specifico di questi strumenti ok allora ultima domanda che dovevo recuperare ma le maria giulia serpi salvi abiti un condominio in un attico al quinto piano sono proprietario dell'astrico solare posso usufruire dell'eco bonus per fotovoltaico pannelli solari grazie cordiale saluto maria giulia serpi allora maria giulia la risposta che ti devo dare è questa siccome abiti al quinto piano escludo che tu abbia l'ingresso indipendente per questo motivo devi muoverti in questo modo devi attendere che il tuo condominio liberi degli interventi trainanti ok quindi occupazione dell'edificio per almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda oppure rifacimento della centrale termica condominiale se avete l'impianto centralizzato e a quel punto tu puoi in quanto proprietario dell'astrico solare inserire come intervento trainato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico quindi per la produzione di energia elettrica col sole oppure solare termico quindi produzione di acqua calda sanitaria col sole in alternativa scusami a completamento potresti anche ad esempio sempre come intervento trainato ad esempio sostituirti gli infissi montare dei frangisole montare delle schermature solari eccetera tutti gli interventi trainati di cui abbiamo parlato nel live finora ok però sei agganciata al condominio quindi se il condominio non fa interventi trainanti sia un pochettino bloccata quindi abbiamo risposto a queste 3 4 5 6 7 8 9 persone e adesso mi vado a recuperare i vostri commenti bevo un goccio d'acqua e parto con le domande fatte in live allora 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 ragazzi saluto tutti non vi saluto uno a uno altrimenti ci allunghiamo troppo allora maria agnese cannas dovrei fare l'efficientamento energetico superbonus 110 per cento di una casa su due livelli con sotto tetto poiché in centro storico il comune chiede che il fotovoltaico sia integrato attualmente il tetto non reggerebbe né fotovoltaico e neanche il pannello solare per cui dovrei rifare completamente la falda questo lavoro idile rientra con superbonus o col bonus 50 per cento i lavori di rifacimento dei pavimenti per l'inserimento di riscaldamento a pavimento rientra di superbonus 110 maria agnese ti rispondo subito allora per la prima domanda il rifacimento della falda non rientra nel superbonus ok però puoi utilizzare le detrazioni al 50 per cento come scrivi in dieci anni ok perché perché non rientra intanto perché rifare completamente una struttura non rientra nel superbonus a prescindere sarebbe rientrata la coibentazione ma avresti avuto l'obbligo di avere il sottotetto riscaldato no invece per la seconda tua domanda i lavori idili per il rifacimento dei pavimenti se devi inserire l'impianto di riscaldamento a pavimento si rientra nei superbonus sono delle opere accessorie che consentono che consentono quindi la realizzazione dell'impianto a pavimento ok andiamo avanti giovanni come sappiamo non si aderita superbonus 110 agli altri bonus e si è commesso un abuso edilizio insanabile ipotizziamo che questo abuso venga commesso successivamente lavoro nell'arco temporale dei controlli cosa succede si perde il bonus in realtà secondo me no mi spiego la pratica si definisce cioè ipotizza che facciamo noi la pratica noi ci dobbiamo accertare che nel momento nel quale stiamo facendo l'intervento non hai abusi quindi si fa si fanno le verifiche preliminari si fa lo studio di fattibilità scusate si fa la progettazione si fanno i lavori si fanno le asseverazioni finali le dichiarazioni di conformità le comunicazioni tutta la carta insomma la complessa burocrazia di cui abbiamo parlato a lungo finora in quel momento il tecnico assevera che non c'è un abuso se ti controllassero fra 4 5 6 anni il controllo è relativo a quello che era al momento dell'abuso al momento della severazione cioè noi in quanto asseveratori non è che dobbiamo fare la guardia alla casa per i prossimi otto anni no quindi semmai si è commesso un abuso sai bene che un reato penale l'abuso edilizio ed è anche un po bastardello perché è un reato che non si prescrive per cui io suggerisco a tutti di evitare abusi edilizia se sono stati compiuti in buona fede oppure magari lo scoprirete durante lo studio di fattibilità di aver comprato una casa con degli abusi edilizi il vostro tecnico non se n'è accorto il il tecnico che magari è stato mandato dalla banca per la perizia per il mutuo non se n'è accorto sapete che quella roba lì non si prescrive per cui prima o poi dovrete vendere questa casa la dovrete cedere vostri eredi perché nel medio periodo come diceva quello siamo tutti morti per cui prima o poi sono dei mal di testa che vi dovete risolvere io suggerisco di farlo quanto prima ok però che poi mi dice dalle 9 alle 14 mentale ti fa un baffo no sarà un webinar che alla peggio dura tre ore quindi dalle 9 alle 12 e poi dovete andare a bere un bel aperitivo nei bar che hanno tanto bisogno di nostri soldini ok massimo dura tre ore ma che l'altra volta abbiamo tenuto la tre ore questa volta forse siamo ancora un pochettino più brevi perché siamo più 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 collaudati insomma poi allora freghi tenagli in caso di installazione colonnina ricarica elettrica sarebbe necessario adeguare l'impianto elettrico visti i voltaggi importanti la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico sarebbe da aggiornare avete tecnici in grado di realizzare la qualora fosse mancante allora rispondo a tutte le domande quindi la colonnina di ricarica elettrica non è lei di fatto che non è una questione di voltaggi importanti i voltaggi sono sempre o 230 volt la trifase a 380 400 la questione è che ti trovi con un impianto con un arrivo dalla rete un arrivo dal fotovoltaico le batterie eccetera quindi con parecchia più intensità di corrente in giro per casa no parecchie più potenze in giro per casa quindi certamente ci vuole un ragionamento unico che parte dalle potenze impegnate dagli assorbimenti probabilmente potrebbe essere necessario modificare rifare il quadro elettrico quindi se hai già una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico esistente tutte le modifiche vengono fatte come ampliamento quindi avrà una dichiarazione di conformità che cita la dichiarazione di conformità precedente e certifica la conformità dell'ampliamento se invece la dichiarazione di conformità è mancante bisogna vedere in che anno è stato fatto questo impianto e in caso di impianto ante 2008 si può fare la dichiarazione di rispondenza dove un tecnico abilitato dichiara cioè fa le giuste le corrette verifiche sul tuo impianto e se tutto ok dichiara che l'impianto risponde si chiama dichiarazione di rispondenza per quello risponde alle normative attuali oppure in caso di non conformità ti indica quali sono le non conformità ok ovviamente se abbiamo i tecnici per fare anche questo certo allora matteo va un mezzo demolizione ricostruzione senza sisma bonus se per i lavori di muratura uso un blocchi laterizzato e remo isolante con isolante integrazione non posso detrare i lavori di muratura col 110 la normativa non parla di rifacimento di murature quindi è un caso che ancora non mi era capitato che parla di coibentazioni quindi questa se mi mandi cioè se me lo ricordi i prossimi giorni magari te lo verifico e poi ci riaggiorniamo mister ghibe per impianto fotovoltaica necessario che l'impianto elettrico preesistente abbia il certificato di conformità quando ti va inserire con un fotovoltaico ti deve attaccare in qualche modo all'impianto esistente se l'impianto esistente una dichiarazione conformità secondo me non va bene per cui anche nel tuo caso come detto poco fa a a frenchi io suggerisco se l'impianto è ante 2008 si può fare dichiarazione di rispondenza se l'impianto è successivo al 2008 ti devi andare a chiappare chi ti ha fatto l'impianto l'impianto elettrico e non ti ha rilasciato il dichiarazione di conformità e te la fai rilasciare giuseppe sarebbe interessante fra gli ospiti invitare un super esperto per la cessione di credito alle banche sto ricevendo informazioni discordanti in ogni filiale a cui mi rivolgo noi non l'abbiamo ancora fatto giuseppe per un motivo molto semplice perché ancora le informazioni sono contraddittori come dici tu per cui portare un esperto che ti dice forse serve a qualcosa quando sarà chiaro valutiamo anzi accettiamo molto volentieri il tuo suggerimento dopo aver acquistato frenchi dopo aver acquistato la casa ho rimosso un muretto di mezzo metro alto 80 spesso 10 da considerarsi abuso no talmente rilevante andrea raffaelli devo partire con lavoro demolizione ricostruzione con sisma bonus e superbonus 110 mi passano calde condensazione climatizzato pompa di calore allora ho letto una cosa proprio su questo qualche giorno fa nelle fac delle del ministero economia e finanze allora il concetto è questo quando fai interventi super bonus super ecobonus quindi parte diciamo coibentazioni termica impianto termico il requisito sempre miglioramento delle due classi energetiche quindi dirti da adesso se la calde condensazione ti porta su di due classi non lo so bisognerebbe fare i conti i climatizzatori pompa di calore in queste fac delle ministeri economia finanze li ponevano come possibili interventi trainati ok quindi ti faresti la calde condensazione come trainante e climatizzatori come trainati una volta che è questo è quello che la normativa c'è in realtà quello che preparano queste fac ricordiamoci che alla fine di queste domande risposte frequenti c'è una bella nota un bel disclaimer che dice occhio che quello che diciamo qua è solo per cercare di capire meglio e per spiegare meglio la norma non è che questa roba faccia fede quindi su questo punto starei un attimino in sospeso però quello che ti voglio dire che probabilmente bypassa completamente il problema è ma scusami se stai molendo ricostruendo una casa perché ti metti a fare questa roba posticcia con la caldaia più climatizzatori quindi fai metti due o più generatori per assolvere una funzione che potevi risolvere con un generatore solo cioè perché non valuti una soluzione con una pompa di calore aria acqua che lavora su pavimento radiante o venti con vettore ad esempio e così c'è caldo e freddo con un unico impianto di solito quando propongono quando ti propongono gli impiantisti queste porcherie dove mettiamo la caldaia condensazione per fare caldo quei termosifoni magari i climatizzatori per fare freddo oppure quelle altre porcherie tipo mettiamo il pavimento radiante con la caldaia per fare caldo per il freddo mettiamo gli split cioè quella gente la non la devi far lavorare c'è son porcherie li deve accompagnare alla porta senza offrirgli il caffè come dico sempre ok quindi non ti fare furviare da questi banditi che ci sono in giro chi ti propone un impianto a maggior ragione in caso di demolizione ricostruzione cioè stai partendo da capo perché di farà porcheria mette una pompa di calore aria acqua e fatti dimensionare un impianto in grazia di dia ok ragazzi altra domanda questa mia a voi sto andando troppo nel tecnico rega perché ogni tanto mi parte l'embolo parte un ingegnerese mi dite cortesemente se sto andando troppo nel dettaglio tecnico sto parlando troppo difficile attendo un attimo perché ho sempre un certo ritardo tra quando voi scrivete e quando io vedo i commenti ok quindi andrea io in questo momento dato che attendo i feedback in questo farei così mi cercherei di appoggiare a qualcuno di serio poi se ti fa piacere che facciamo ragionamento assieme su questo mandaci un messaggio in privato e possiamo partire con la pre analisi per capire qual è la soluzione più giusta per il tuo caso specifico va bene così ragazzi dario cappai giustamente dice per me che ho seguito 36 live per me che ho visto 36 live giustamente lo chiamiamo da questa parte del microfono tranquillamente ok mi fa piacere allora dobbiamo andare a recuperarci gli altri commenti eravamo arrivati ad andrea giampaolo è tagliata la tua domanda comunque secondo lei su un immobile indipendente villa unifamiliare all'interno di un condominio sul quale si vuole intervenire in modo radicale sia sismicamente che energeticamente con l'utilizzo di super ecco e sisma bonus per gli interventi che si potrebbe così riassumere super sisma bonus sostituzione dell'ordidatura del tetto e interventi di miglioramento sulla struttura dell'edificio ti dico sì tieni presente che io non mi occupo di sisma bonus per cui non mi chiedere più di questo livello di dettaglio super ecobonus esattamento degli involucri pareti esterni in pavimento verso terra sostituzione degli non so se stai parlando di infissi comunque si puoi procedere tranquillamente così giuseppe una tettonia in legno nel piano terra di un condominio rappresenta un abuso se non è dichiarata sì perché un aumento di superficie coperta tieni presente che molto probabilmente è una sanabile quindi bisogna verificare che cosa c'era di autorizzato cosa è stato realizzato magari è sanabile ettore tenaglia ciao caro un vecchio casolare di roccato censita la catastro come fabbricato di duto posso utilizzare il sisma bonus 110 come demolizione ricostruzione l'eco bonus 110 credo di no giusto tieni presente come già detto che non mi occupo di sisma bonus quindi ti potrei solo dire stupidaggini in questo argomento tieni presente che per utilizzare l'eco bonus avresti bisogno di dimostrare che è riscaldato ok francesco desantis nel mio condominio i proprietari degli attici non vogliono partecipare al progetto del 110 ovvero capote sostituzione del caldea gas avendo loro già fatto dei lavori improprio ricordati francesco che il decreto rilancio così come modificato dal decreto agosto ha ridotto a un terzo le maggioranze necessarie in realtà è la maggior parte la maggioranza nuova è se la maggior parte degli intervenuti è almeno un terzo dei millesimi vota a favore per i lavori condominiali il condominio fa i lavori vuol dire che il condominio deciderà col voto contrario di questi qua però voi andate avanti che te ne frega allora fabrizio 80 se l'impresa da contratto intende imporre la numero di un proprio direttore di lavori il caso di lasciar perdere fabrizio ti dico questo che tutte le volte che ti troverai a lavorare con general contractor ti devi affidare come nel nostro caso per la cronaca ti deve affidare entramente a loro questo è noi come ci regoliamo se il se interveniamo in un caso dove ne parlavamo prima con uno di voi in video call uno di voi che ha già comprato lo so di fattibilità se uno ha già in corso dei lavori di ristrutturazione ampliamento qualcosa eccetera c'è già un tecnico ovviamente non mi metterò mai a sostituire lui non mi metterò mai combattere con lui mi metto a cerco di collaborare con lui no con trasparenza ognuno dice quello che quello che fa quello che deve fare ok ecco il rispetto delle altre figure no però nel momento nel quale andassi a intervenire su un edificio dove non ci sono i corso lavori il cliente non ha un tecnico di riferimento ovviamente il direttore dei lavori sarà uno del nostro staff ma per una questione di semplicità e di velocità ok poi se tu ritieni che ci possa essere un conflitto di interessi pensi di non essere tutelato eccetera eccetera usa una modalità diversa scegli tu un direttore dei lavori trova trova qualcuno che abbia un modo di lavorare che si leghi con quello che tu desideri non c'è niente di obbligatorio ok per gli scatti ragazzi c'è qualcuno di voi che mi dice si vede bene qualcuno che mi dice luca sadone mi dice si vede bene luca tu mi avevi fatto una domanda in privato su un condominio di 9 10 appartamenti me la rifai perché non me la sono ritrovata così ti rispondo ok mi spiace ragazzi per questa cosa che va a scatti evidentemente abbiamo problemi connessione francesco toldetto di questa cosa ne abbiamo già parlato recentemente recentemente vediamo se riesco a recuperarti la live così magari te la vedi più con calma ti suggerisco francesco di recuperarti la live numero numero 30 dove praticamente alla stessa domanda lo trovi quasi all'inizio ho risposto alla stessa domanda di natasha de rossi che è qui connessa anche oggi ok quindi è inutile che ci allunghiamo a riparare a ripeterti quindi live numero 30 paolo labieni biletta schiera di 15 anni su due livelli libera su quattro lati che necessita di lavori di manutenzione ordinaria straordinaria in particolare facciata possibilmente cappotto e sostituzioni fissi riscaldamento con termosifone caldea gas la superficie del tetto spiovente con un lato di circa 3 metri quadri esposta a sud può essere sufficiente per installare il fotovoltaico e passare da riscaldamento a gas ad elettrico la sequenza dei lavori quale potrebbe essere allora paolo ti rispondo molto volentieri intanto il ragionamento un po a rovescio nel senso che il passaggio da gas quindi da caldaia a pompa di calore ha senso anche se non fai fotovoltaico ok ipotizza che tu non è non avessi tetto per fare il fotovoltaico comunque passare una soluzione elettrica guadagni sempre ok comunque guadagni benessere risparmi un sacco di soldi all'anno anche se l'energia la compri tutta quindi se hai 30 metri quadri di tetto disponibili si installerà l'impianto fotovoltaico più grande possibile tenuto conto di qual è il fabbisogno quindi così a occhio non ti posso dire se 30 metri quadri possono essere molti o pochi non lo so quindi fa bisogno energetico lo spazio disponibile naturalmente ci vuole un'analisi più approfondita quindi se vuoi andare ad approfondire questo scrive ragazzi chiedendo la pre analisi ok francesco toldetto sono per due abitazioni si le il super ecobonus è solo per due abitazioni andando avanti antonio melas buonasera ingegnere nell'ipotesi dover fare un intervento sul sottotetto in ecobonus 50 per cento un intervento 110 sull'edificio naturalmente con due pratiche se a parte vi occupereste di entrambi le pratiche relativi lavori allora di opere di lì non ce ne occupiamo di parte progettuale direzione dei lavori eccetera tutte le valutazioni del superbonus si senza problemi la cosa che ti posso suggerire in questo momento è tu ci hai già chiesto la pre analisi fra quanto fammi vedere perché mi pare di aver visto il tuo il tuo nome forse già chiesto la pre analisi no lo so vabbè comunque dammi conferma eventualmente comunque di tutta la parte ecobonus progettuale eccetera eccetera possiamo copiarci di tutto la soluzione se hai operi di lì da fare quindi qualcosa di edile impegnativo tipo rifare un tetto una cosa pesante la cosa più semplice che ci metti in contatto con l'impresa di tua fiducia l'impresa edile di tua fiducia troviamo il modo di collaborare ok giovanna sgariboldi ho visto che probabilmente per la pompa di calore si useranno quasi 30 mila per la vmc e radiante a soffita con le detrazioni posso soffrire grazie questo 30 mila rientra tutto nei 30 mila del termico quindi se sfori te li paghi di tasca molto semplicemente oppure decidi che una parte degli impianti non la fai rientrare nel progetto superbonus e ti prendi le detrazioni però a quel punto di ti direi al 50 per cento in dieci anni però non puoi fare mix cioè non facciamo robe tipo che quello che sfori 30 mila lo metto in detrazioni al 50 per cento no capito cioè tu potresti fare un intervento che nessuno pompa di calore soffitto radiante non costa 30 cosa 32 30 mila col 110 per cento i due te li paghi di tasca poi decidi di aggiungerti la vmc non la fai passare attraverso il superbono 110 ok e ti fa una pratica di detrazioni 50 per cento in in dieci anni come se fosse come se fosse un intervento idile ad esempio scusate se ogni tanto mi blocco ma leggo anche i vostri commenti nel frattempo monica orrussa acceda 110 con fotovoltaico infissi mi consigliano per il capotto di accedere alla bonus facciata cosa ne pensi perché molti tecnici tendono a separare questi interventi è una prassi corretta allora questi tecnici non capiscono niente perché perché con 110 il fotovoltaico infissi non li puoi fare da soli perché sono interventi trainati se tu fai la facciata il cappotto eccetera col bonus facciate non è interventi trainanti quindi se non è interventi trainanti non puoi fare manco i fotovoltaico gli infissi con 110 quindi questi tecnici li mandi a studiare ok come devi agire devi trovare qualcuno che ti faccia lo studio ti deve far individuare degli interventi trainanti o di coibentazione capo sulle facciate come dici tu o di rifacimento dell'impianto termico a quel punto dopo che è dimostrato il miglioramento energetico di almeno due classi il fotovoltaico gli infissi rientrano anche loro a 110 ma da soli loro a 110 non ci vanno sono tutte e due interventi che vanno al 50 per cento in dieci anni ok ragazzi ma perché tecnici non vanno a studiare anzi a chiedere queste stupidaggini in giro ogni volta mi doveva fare nervosire antonio pace delimitare all'interno del garage con un cartongesso un locale tecnico costituisce difformità edilizia allora dice di formità edilizia sì però dato che stai passando da un locale non residenziale un altro locale non residenziale le oreggiani e se sei connesso correggimi se dico stupidaggini il collega quindi di fatto sì hai fatto una variante non autorizzata però è vero che stai passando da un da un residenziale un altro non residenziale per cui di fatto dal punto di vista volumetrico e neutro per cui una cosa del genere o la risolverei facendo la comunicazione in comune alla peggio ti paghi credo 500 euro di sanzione natasha de rossi dubbio ma conta la firma del contratto di appalto come va gestito per superbonus io non so come come lo gestiscono gli altri lo gestiamo in questo modo che chi anticipa dei soldi o per lo studio fattibilità oppure per pagare una quota dei lavori noi ci facciamo fare il bonifico escluso dai classici bonifici parlanti per ristrutturazione edilizia e una volta perfezionato ovviamente si tiene traccia di tutto si contrattualizza tutto una volta ultimato tutto l'iter progettuale installazione burocrazia eccetera il cliente ci cede il credito fiscale quando noi lo vediamo sul nostro cassetto fiscale lo cediamo a nostra volta alla banca un fornitore insomma dipende di volta in volta e si bonificano indietro i soldi quindi ti è stata messa una fattura facciamo l'esempio semplice dello studio fattibilità ti è stata messa una fattura però su di fattibilità finito tutto ti si emette nota di credito e ti si bonificano indietro i soldi salvatore angelo spano l'edificio è composto da locali commerciali piano terra mentre al primo piano due appartamenti di mia proprietà di cui un incomodato d'uso gratuito a mio figlio posso usufruire del super bonus per il mio solo appartamento da tenere presente che l'appartamento di mio figlio privo di ingresso indipendente allora se il tuo appartamento è dotato di ingresso indipendente quindi ingresso autonomo ed è funzionalmente indipendente si puoi fare il super bonus in autonomia francesco de santis in pratica abbiamo ben oltre il 25 per cento di superficie da coibentare il tetto di proprietà comuni possiamo costringere la sotto a stare loro non vogliono nessuno in casa il caso di prima francese ok allora non è che non vogliono nessuno in casa siccome il condominio vince su di loro se il condominio delibera di fare i lavori il condominio fa i lavori cioè non è che se dobbiamo mettere il ponteggio sulla cioè dobbiamo devo dovranno mettere il ponteggio sul loro terrazzo cioè non è che lo facciamo con gli elicotteri l'intervento quindi devono sotto a stare cioè ragazzi se uno non vuole rotture di palle anziché andare a vivere in condominio si compra una villa o va a vivere in campagna lì non ti devi relazionare con nessuno lì non viene nessuno a farti lavoro usando il tuo terrazzo cioè mi pare normale cioè se ti dà fastidio che quello che sta sopra di te fa rumore perché cammina cosa ne so coi tacchi o passa l'aspirapolvere vai a vivere in campagna non ti rompa le scatole nessuno Natascia De Rossi su una ristrutturazione impegnativa sarebbe una grossa cifra poi come gestire gli avanzamenti lavori sempre in funzione degli sgravi fiscali sì se ti recuperi la puntata nella quale abbiamo parlato di funzione di credito che quella che ho citato prima mi pare che la 31 te lo dico subito a 31 sì come si fa si possono fare stati avanzamenti intermedi almeno il 30 per cento quindi primo stato avanzamento 30 per cento si fa la severazione si cede il credito si recuperano i soldi un altro 30 per cento l'altro stato avanzamento si fa la severazione si fa la cessione credito si recuperano i soldi e poi alla fine si fa il terzo step che si chiama stato finale spero di averti risposta allora vediamo un po' per paolo salaris gli ambienti riscaldati della casa tutti in un piano permettono di vedere la struttura del tetto solo che risultano esserci due travi in ferro a vista negli ambienti in questo caso il tetto viene considerato come idoneo per il 110 per cento sì perché la coibentazione di quel tetto quel tetto praticamente fa la delimitazione tra il volume riscaldato interno è l'esterno per cui le coibentazioni di quel tetto sono al 110 per cento leonardo leonardo reggiani giustamente dice evitare abusi o penale come dicevo prima ragazzi è un reatto schifoso perché non si prescrive a per palotti ho già risposto lori lo buonasera ingegnere nel mio comune ci sono dei fabbricati non accatastati che non possono attualmente essere accatastati il comune con il genio civile si stanno muovendo per sistemare la situazione si può accedere al bonus del momento che la mancanza non imputabile proprietà degli immobili lori allora la normativa dice che il fabbricato deve essere esistente esistente significa che deve essere accatastato oppure in corso di accatastamento quindi se ti fanno presentare almeno una domanda di accatastamento tu sei a posto super bonus se per qualche motivo tecnico che in questo momento non conosco non ti fanno neanche presentare domande accatastamento tu non puoi dimostrare che il fabbricato esistente sei un'alternativa potresti utilizzare se non ricordo male il fatto di aver pagato dei tributi comunali tipo l'imu viene considerato alla pari cioè ti permette di dimostrare che l'edificio esisteva potresti usare questo questo scamottage luca sedone su un condomino di 10 appartamenti mi dicono che si possono montare solo 20 kilowatt dato che poi porterebbero problematiche con enel è vero questa domanda la giro al collega giuseppe soli se non so giuse se sei connesso se sei connesso rispondi a luca altrimenti lu ti risponde una prossima puntata nicola l'ho dato ma l'opera accessori hanno massima la parte si prende dall'opera principale esempio se faccio riscaldamento a pavimento le mattonelle di copertura hanno massima la parte viene presa dalla massima del piatto termico le opere accessori e escono da vengono fuori dal massimale dell'opera agevolata quindi è corretto dire che se rifai se tu gli pavimenti fa il pavimento radiante e ovviamente il rifacimento dei massetti dei pavimenti esce sempre dei 30 mila di termico se hai una un'abitazione dipendente per palomaras posso usufruire degli interventi trainati se sono in un condominio con residenze attività io sono in ufficio con uso promiscuo allora questa domanda devo rispondere che intanto nel condominio bisogna vedere se la maggior parte della superficie è a uso residenziale se la maggior parte uso residenziale puoi partecipare anche tu con un non residenziale quindi il classico ufficio laboratorio studio professionale eccetera puoi avere diritto al super bonus per le opere sulle parti comuni condominiali i trainati se non hai uso residenziale non li puoi fare mai 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 franky tenaglia quando live sul radiante ci stiamo ragionando è che ragazzi siamo di corsa come vedete perché oggi abbiamo dovevamo presentarvi delle news invece per rispondere a più domande è saltata quindi quella sulle news è saltata orientativamente a mercoledì perché domani abbiamo l'ospite come vi dirò meglio alla fine giovedì vi volevo far vedere indietro le quinte non so se faccio in tempo a preparare la puntata su radiante perché ho veramente tante immagini da impaginare da rocappai se dovessi fare anche il capote esterno la sostituzione del momento delle soglie rientra in super buono 110 secondo me sì come processori antonio salari se si dovesse adeguare impianta elettrica seguito di installazione di nuovi impianti costitato adeguamento rientrano nel bonus il mio immobile è del 98 allora antonello io come sempre dico cercherei di non tirare troppo la corda col super bonus perso scrupolo tutto quello che è strettamente connesso al super bonus quindi è stato necessario rifare una linea lo metterei come opera accessoria per la realizzazione della fotovoltaica ipotizziamo roba non connessa tipo devo rifare l'impianto elettrico del bagno non la metterei userei le detrazioni al 50 per cento in dieci anni enza pittorro ci dice invece nel super bonus 110 cambiando gli infissi rientrano anche quelle della cantina allora enza gli infissi rientrano come intervento trainato quindi previo realizzazione di intervento trainante rientrano quelli che delimitano le superfici riscaldati volumi riscaldati scusa per quelle della cantina no ma anche in questo caso puoi farli con detrazione 50 per cento in dieci anni tenendoli separati dalla fornitura degli altri infissi che invece fai col super bonus 110 giovanna sgheriboldi se invece di fare radiante a soffitto facessi rientra pavimento per non rompere tutto cosa pensa degli impianti con fresatura delle tracce per i tubi dell'acqua ne penso che è una soluzione limitante secondo me benché abbiamo la possibilità di realizzarla anche noi non mi piace per il fatto che non hai coibentazione sotto i tubi quindi tutto anziché aver la maggior parte del calore riflesso verso l'alto come nelle soluzioni normali hai che una parte del calore scappa verso il basso quindi avrà un impianto meno efficiente di quanto si sarebbe potuto quindi ma me non piace poi in valutato luca sedona unesco garantisce la possibilità di farsi carico mensilmente tutte le fatture garantite come salda direttore dei lavori mentre le banche parlano di 30 60 è stato finale mai sentito di una strutturazione di cessione dei crediti in questi termini non l'uno l'aveva ancora sentita ok andiamo avanti mi è scappato mi sono scappati giù i commenti a medio spiga abbiamo una casa con climatizzato in ogni stanza vorremmo sostituirli con una pompa di calore centralizzata rientra nel 110 sì perché la tua casa è dotata impianto termico sempre bisogna ovviamente progettare un intervento che ti porti a miglioramento di almeno due classi energetiche salvatore torre condominio non costituito con otto unità deve costituirsi serve delibera serve codice fiscale se non ricordo male deve costituirsi non seguo granché i condomini mi occupo soprattutto di abitazioni indipendenti diciamo così addirittura antonio mi dice grazie tutto chiaro e maria agnese mi dice super attiva gentilissima giuseppe pace è possibile usufruire del bonus sono stabile di tre unità intestata una sola persona purtroppo questo è uno dei casi più svantaggiosi diciamo per super bonus è come anche guarda ti recupero ma anche le ultime cose che sono uscite ed è purtroppo una situazione abbastanza svantaggiosa probabilmente verrà sanata questa cosa fatemi aprire la normativa e ti dico ti do qualche riferimento in più ti ho qualche riferimento in più allora allora la domanda è questa la trovi nella fac 3.1 della ministra economia finanze che ha messo fuori l'onorevole villarosa allora questa roba qua dice sostanzialmente si applica il super bonus agli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastati in un edificio interamente posseduto da un proprietario la risposta è no l'agenzia delle entrate con la circolare 24 è quella dell'8 agosto ha ribadito che il super bonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastati in un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti quindi questo lo trovi nel punto 1.1 della circolare 24 e 2020 dell'8 agosto quindi questo è dovresti valutare se qualcuna di queste unità a ingresso indipendente e provare a gestirle come appunto unità funzionalmente indipendente ricaldo può dare assenso affiancare una pompa di calore per riscaldamento raffrescamento uno scaldabagno a pompa di calore preferibile far far tutta la pompa di calore sono due soluzioni progettuali entrambe rispettabili io di solito non ragiono così nel assenso si può avere senso però secondo me il senso va sempre contestualizzato quindi prima di dirti sia la soluzione giusta per te oppure facciamo far tutta la pompa di calore ti ti direi va fatta una valutazione tipo puoi abbinare un solare termico la prima domanda che mi viene in mente gianluca novelli le dita che fanno i lavori devono essere italiano possono essere anche europea non ti so rispondere sai non mi è ancora capitata mister ghibi siete operativi nel lazio si ettore tenaglia un condominio con tre pareti a confine commercio comunale dovendo fare il capotto esterno invaderebbe altra proprietà si può in questo caso realizzare il capotto interno questo tema del capotto esterno interno è un po contraddittorio io ti suggerisco di fare così per tagliare la testa al topo io fare il capotto esterno come intervento trainante su almeno il 25 per cento delle superfici è in modo che anche se ti considerano il capotto interno come trainato tu sei tranquillo col general contractor salvatore torre con general contractor l'impresa da chi ha scelta il general contractor sceglie tutto in pratica il concetto del general contractor ragapori poi l'hanno fatto in inglese per renderlo più complicato ma il concetto è molto semplice tu hai un'esigenza individui un interlocutore unico che si chiama general contractor si poteva chiamare pippo ok la tua domanda è vorrei fare un progetto completo di super bonus ai alto interno tutte le figure che servono per gestire in autonomia il progetto come si dice chiave in mano che general contractor dice general contractor dice sì o al mio interno oppure come collaborazioni esterne tutte le figure i tecnici l'impresa eccetera eccetera questo è il general contractor il generale contractor ragazzi è una delle modalità è quella che utilizziamo noi ad esempio no però non è l'unica modalità possibile se questo non vi piace perché avete dubbi che vi appioppano un direttore dei lavori che poi non fa i vostri interessi oppure vi propongono un'impresa che non vi piace non è l'unica soluzione possibile ragazzi cioè potete utilizzare altre formule quindi c'è ragazzi c'è tutto per tutti non c'è un modo giusto o modo sbagliato lo dico da anni non c'è un impianto giusto l'impianto sbagliato a parte alcune schifze che si vedono in giro però diciamo che a certi livelli ci si può confrontare su varie soluzioni non c'è l'unica perfetta le altre fanno tutte schifo magari ce ne sono due o tre ed è per quello che noi ad esempio facciamo una parte importante di analisi delle esigenze per trovare quella più adatta al vostro caso specifico idem per per le imprese no c'è l'impresa perfetta quella c'è la più adatta al vostro caso ok vado avanti sono ragazzi già e 55 55 vediamo di farne qualcun'altra e poi facciamo qualche un'altra e poi ci salutiamo allora freddo rispoli immobile anni 70 con progetto approvato di demolizione ricostruzione con cambio forma e misura se è come indicato dal test unico aggiornato puoi procedere tranquillamente previsto capotto termico impianta pompa di calore aria acqua nuovi infissi si può applicare l'eco bono 110 per cento sì perché con le ultime novità la demolizione ricostruzione viene considerata come una strutturazione mariana ciao buonasera volevo sapere se l'omento di due classi energetiche deve avvenire con la combinazione di soli interventi trainanti da parte del condominio potrebbe andare bene anche un intervento trainante per esempio il capotto fatto al condominio intervento trainato fatto in un singolo appartamento per esempio cambio infissi un tecnico ci ha riferito che siamo obbligati a fare sia capotto che cambio verso caldo e condominiale per poter salire di due classi energetiche e mariana forse c'è ragione lui nel senso che nel senso che l'intervento nel condominio l'intervento trainante quello che fa fede secondo me il miglioramento energetico ce lo deve avere lui a meno che non facciano un mix tipo cambiamo gli infissi di tutti gli appartamenti facciamo il capotto e se il mix di questa roba porta miglioramento di due classi puoi far così senza andare a passare alla caldaia centralizzata francesco told detto i climatizzatori per affrescare rientrano nelle coburni si installano impianto a pavimento una pompa di calore per riscaldamento non c'è certezza assoluta su questa cosa ti posso dire che orientativamente rientrano come trainati ti direi evitiamo di fare porcherie come dicevo prima cerchiamo di fare impianti unici possibilmente gabriele siciliano la tua domanda è più o meno come quella di francesco leonardo come diceva risponde alla domanda di prima cioè ho fatto il frazionamento e sono ricordo di chi era la domanda comunque ho ricavato virgolette abusivamente la centrale termica dal garage semplicemente fa la comunicazione non diciamo che l'abuso è che non l'hai comunicato prima se lo comunicavi non ti pagavi manco la multa e quindi ti fai ti paghi 500 euro di comunicazione tardiva e basta giuseppe qualche lavoro da farci vedere relativo al soffitto radiante no perché non ho mai fatto soffitto radiante non per non per altri motivi ma perché per me la soluzione base è il pavimento radiante poi se uno lo vuole fare abbiamo le competenze per farlo serenamente giuseppe nazionale se c'è ragazzi qualche domanda che salto vuol dire che troppo tecnica e quindi non è di interesse per tutti per cui l'assalto abbiate pazienza matteo demolizione ricostruzione senza simbobonus i costi della demolizione posso da tra la 110 per cento solo dell'impianto termico allora se non fai sisma bonus la demolizione ricostruzione non sono pre ecco bonus germana san germani dopodiché ragazzi dopo questa tagliamo e poi risponderò qualche altra volta per accedere superbonus 110 quali sono le esclusioni per detrazione da bonus ottenuto in precedenza posso soffrire del superbonus 110 per sostituire climatizzazione fotovoltaica accumulo colonina su edificio che già soffritto detrazione con bonus ristrutturazione in precedenza qua germana la verità è che il problema è intanto col fotovoltaico magari tu hai firmato qualche contratto col gse per cui non è chiesto prendi smonti la seconda la seconda valutazione ha senso se tu hai una casa recente con questi interventi impiantistici importanti sostituirli adesso cioè non secondo me non esageriamo nelle cose poi se non ti risposto adeguatamente magari mi rifiare la domanda una prossima volta allora ragazzi una cosa importante mi dicevo così ve lo finisco di raccontare e poi ci salutiamo e poi vi devo dire anche l'ospetti di domani allora prima di dirvi di che cosa parleremo domani all'inizio vi ho detto che sabato 14 novembre alle nove alle 12 faremo un nuovo webinar sul superbonus 110 e questo il quarto dopo quelli del 3 17 e 31 ottobre abbiamo fatto questo webinar come vi dicevo perché col pregio precedente abbiamo cambiato piattaforma quindi c'è stato qualche problema cioè in realtà in tanti avete avuto problemi a connettervi stiamo risolvendo questi ultimi dettagli comunque per scusarci facciamo un altro webinar il titolo sarà come vincere il campionato del superbonus 110 per cento giocando secondo le regole evitando costose squalifiche sanzioni e contestazioni da parte degli arbitri dell'agenzia delle entrate quindi titolo sfondo calcistico e vi assicuro che il paragone con lo sport ci aiuterà a capire meglio come muoverci per arrivare alla vittoria finale naturalmente da un webinar all'altro ragazzi come sapete i contenuti vengono aggiornati per cui vi suggerisco di partecipare anche se avete visto i webinar precedenti vi darò come sempre tante notizie utili per orientarvi nel compresso del superbonus 110 per cento e vi spiegherò nel dettaglio come possiamo iniziare a lavorare insieme vi ricordo che il webinar sarà live non su facebook e youtube ma su un'altra piattaforma non sistemando come vi dicevo gli ultimi dettagli tecnici e nei prossimi giorni vi faremo avere il link per registrarvi domani live numero 37 questa volta straordinariamente per andare incontro alla disponibilità del nostro ospite che domani ha impegni da genitore questa settimana anticiperemo la live da mercoledì al martedì si tratta ve lo svelo dell'ingegnere alessandro schiavegger che si occupa soprattutto della progettazione di impianti termici ed elettrici è un punto di riferimento per i tecnici di tutta italia data la sua profonda conoscenza delle norme e anche le sue profonde competenze da progettista leggo dalla sua biografia ci racconta così si racconta così buffo che tutto quello che sono oggi iniziato grazie a uno scontro con un ingegnere più grande noto di me avevo 30 anni già studiavo in modo estremamente scrupoloso le norme impiantistiche ero stato ammonito in pubblico su una questione relativa sulla questione legislativa sulla conformità degli impianti tornato a casa continuava a pensare a quell'episodio non me ne capacitavo e non riusciva a capire dove mi fosse sbagliato ho fatto il mio primo video su youtube sperando di capirne di più ero certo che tanto non l'avrebbe visto nessuno eppure oggi a distanza di cinque anni ogni settimana più di mille impiantisti ingegneri e professionisti studiano e si aggiornano grazie ai miei video ps alla fine avevo ragione io ma questa è un'altra storia quindi ragazzi con alessandro domani faremo una bellissima chiacchierata su super bonus e impianti e sono sicuro che sarà una puntata interessantissima quindi domani ragazzi come sempre alle 19 noi ci vedremo con ali un pochettino prima per fare un po di prove tecniche sperando che vada tutto meglio della precedente live con ospite ragazzi per salutarci se siete persi qualcuna delle live precedenti come sempre le potete trovare all'interno del gruppo facebook ingegner marcelo conto super bonus 110 per cento se non l'avete fatto ancora potete iscrivervi e se invece ci segui su youtube ti suggerisco di iscriverti al nostro canale ingegner marcelo conto e di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica quando pubblichiamo un nuovo video oppure programmiamo una nuova live se ti stai se state trovando interessanti queste live come sempre ragazzi vi chiedo la cortesia di condividerle con i vostri amici colleghi parenti e in modo che magari anche loro possano beneficiare di questi contenuti come sapete su internet si trova un po di spazzatura spesso spero di essere il lato buono della della informazione sul super bonus 110 per cento ragazzi come sempre ci vediamo domani con me alessandro alessandro schiavegger per parlare di impianti super bonus 110 per cento e anche i tanti amici che sono con noi tutta la serie grazie mille ci vediamo domani con me alessandro